Bentornati a Sputi, un podcast che offre un sacco di sputi di conversazione. Vado a partire. Bravo! Grazie, grazie. Grazie, grazie. Perlomeno abbiamo capito perché si chiama Sputi. Così un giorno diranno Ah, ma ti ricordi quel podcast con Daniele Fabri e Barbascura? Quanto salivano nelle classifiche. Benvenuti! Come vedi siamo partiti proprio... Non ci fermiamo, proprio inarrestabili. Ma tu hai appena finito di saldare qualche cosa, non ho capito perché sei imboccato con questi... Nemmeno io in realtà. Va bene, ma non dobbiamo spiegarci le cose in questo podcast. Non sappiamo neanche ancora perché ci chiamiamo Sputi. Io lo so. Come lo sai? Beh, sputando... Perché è bello lo sp... Vabbè, lasciamo stare. Comunque sia. Benvenuti alla seconda puntata. Grazie a tutti quelli che hanno visto slash ascoltato la prima, tra l'altro. Grazie mille. È stato molto interessante. Tra l'altro vi abbiamo chiesto un sacco di consigli, o meglio, vi abbiamo chiesto di indovinare perché si chiama Sputi. Perché noi lo sappiamo perfettamente perché si chiama Sputi. Noi lo sappiamo assolutamente perché si chiama Sputi. Noi lo sappiamo, ma voi lo sapete. Ci avete dato un sacco di indicazioni interessanti, interessanti. Tu vuoi leggerne qualcuna? Ce ne sono state tante, io ne ho presa qualcosina. 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 Solo così, per dare un pochettino l'idea della fantasia delle risposte che ci sono arrivate. Molto belle, molto belle. È che devi fare. Il mio pubblico, d'altronde. Allora, Sputi. Servizio pubblico unto, traballante ma immediato. Bello. Io, proprio da cittadino romano, ho pensato, wow, perfetto, è la mia vita. Bello, ti piace? Che bello, mi piace, mi piace. Sai che stavo pensando? Sarebbe stato bello cambiare la definizione a ogni sigla. Però ti immagini che io dicevo, cambiamo la sigla ogni... Dobbiamo pagare la droga all'animatore, poi però. Beh, tanto. D'altronde, nessuno di noi viene pagato normalmente. Tu hai mai visto soldi? No. Però neanche droga, per ora. Vabbè, per ora c'è l'alcol. Se volete aiutarci col successo di questo podcast, portate a Daniele la droga, perché a quanto pare. Prego, prego. La giro all'animatore. Hai un'altra... Sì? Allora, questa è più carina o più sove... Sputi, salotto per utenti tendenzialmente imbriachi. Bello, bello. Torniamo sempre qui. Sì, è plausibile, bello, mi piace. Che ti sembra meglio di quella di prima? Cioè più soft, più elegante? Devo dare anche un voto a... Non per forza un voto, però un'opinione. Un'opinione. Non so, sono... In realtà non lo sai perché ho gli occhieri da sole? Eh? Perché così puoi vedere quando chiudo gli occhi e soffro. Comunque ne ho altre di selezionate... Ne ho altre, ne ho perché ci hanno scritto... Allora, qui dicono si chiama Sputi perché la sigla è prodotta unicamente con taralli italiani. C'è molto contorta questo acronimo. Non so, manco se è un acronimo questo, scusate, se tecnicamente lo sia. Perché non puoi leggerlo. Mettilo mai in avanti. Cioè è difficile leggere sta cosa. E comunque capisco. Cioè nel senso ricordo delle feste dove c'erano soltanto taralli e io ero molto ubriaco e disidratato. In effetti... Sì, era cinque minuti fa, infatti. È successo. Esatto. Avevo tre anni. No, va bene, prego. E poi c'è anche Sputi, il nome del podcast che descrive la piscina dove si rilassa Vincenzo, di cui ovviamente fa parte del podcast, galleggiandosi di un materassino con un cocktail in tutte e sei zampe. Ho molta immatinazione. Che succede? Credo che lo proporrò a Cartoon Network. C'è la possibilità di aprirci proprio un filone narrativo incredibile. Questo stava bene con te prima, mi sa da come ha scritto. Sì, sì, ma quando avevamo tre anni che stavo bevendo con il signore, bellissimo, è stato fantastico. Vabbè, vabbè, leggimelo un altro, dai. Guarda, c'è l'ultimo, che l'ho preso soltanto per dargli un tono un po' più internazionale. Figurati. Cioè, ci hanno consigliato. Sputi, Sexual Predators United to Information. Oh, sì, siamo proprio noi. A me piace. Bello, bello, mi piace. A me piace. Mi sa tanto di qualcosa tipo gli Avengers. Cioè, ci potremmo fare una serie, una roba. No, Sexual Predator. Sì, predatori sessuali che però per la divulgazione diventano delle persone serie. Tu pensa a cosa è in grado di fare la scienza. Bello. Se si fa cambiare gusti anche in una materia così complessa. Però, dai, raccontiamo perché siamo qua. Allora, dato che questo è il nostro giocattolo, in pratica siamo qui per cazzeggiare e divertirci, ma anche per parlare di scienza e di arte, tecnologia in generale. Però, in realtà, per cazzeggiare, ripeto. Noi organizziamo... Dobbiamo dire per contratto questa cosa dell'arte, della cultura, della scienza. Questa roba, no? Però, in realtà, noi organizziamo un sacco di festiccio. Io organizzo un sacco di festicciole dove partecipi anche tu. Invitato. E ci sono un sacco di amici che sono scienziati. E parliamo di cose anche serie. E uno non lo sorpetterebbe. Cioè, serie. Cazzeggiando. Siamo generalmente molto ubriachi. Ma parliamo anche di cose serie. Una sorta di Big Bang Theory, ma ambientato in una clinica di rehab. E dato che siamo qui... Abbandonato. Abbandonato. Non gestita da nessuno. E dato che siamo qui e, in sostanza, noi usiamo questo podcast anche per divertirci tra di noi, ribeccarci tra di noi, parlare di cose che ci stanno a cuore. Ma anche, vorrei farvi conoscere le persone che sono dietro le camere. Fateci un applauso al pubblico, per favore. Ecco, vorremmo farvi conoscere le persone che sono là dietro, ma anche i personaggi che diventeranno fissi, in un certo senso, del nostro podcast. Che stanno là dietro a dire cazzate. Perché per questo le abbiamo chiamate, no? Perché siccome ci stanno talmente tante cazzate da dire, abbiamo più location in cui farlo, fondamentalmente. Quindi, di conseguenza, ho pensato sarebbe molto interessante fare una chiacchierata con il nostro amico Alessio, di cui non dico il cognome perché altrimenti ci butterebbero giù il video. Allora, mi dispiace Alessio, questa cosa è vera. Però lo sai, no? Il dottor Alessio Traficante. Dottor, dico, no? Poi non siamo certi. Un ricercatore dice, però io francamente non l'ho mai visto lavorare un giorno solo della sua vita, e che studia astrofisica in università. Poi anche questo c'è da capire, da vedere. Vabbè, facciamolo dire direttamente a lui. Prego, entri l'ospite! Ciao Alessio, come stai? Bene, sto ancora rimpiangendo quelle feste in cui ubriachi chiacchieravamo del più e del meno. Aspetta che ti aiuto, vedo che all'università non ti insegnano come si manipolano i microfoni. No, io ho fatto teorica, sia chiaro io ho fatto teorica. Intanto volevo dire questa cosa, che nel rifare questo podcast per riprodurre le feste in cui gli scienziati, amici, si raccontano... Io sono stato invitato proprio a fare la parte che faccio anche nelle feste, cioè quello che non sa un cazzo di niente di quello di cui parlate, e fa le domande che non c'entrano niente. Perché io poi sono stato invitato alla prima volta a una festa di barbascura, non in quanto scienziato, ma in quanto uno che abita qui vicino. E quindi vieni e da lì... No, Sofia, non è vero. La prima festa in cui ti ho invitato era per divertirci. Tu non eri manco così tanto vicino. Io abitavo pure in centro, era un casino trovare parche. Vabbè, però in quella sera ero tanto ubriaco. Ebbè, quello è la base. Quella è la base. Ciao, Alessio. Ciao, Daniele. Come stai? Bene, molto bene. Sono molto contento di parlare di tutto ciò che non è esattamente la mia materia. Un gran piacere. Oh, che bell'inizio. In che senso? No, no, no. Iniziamo col dire che cosa è che studi, dai. Studi, vabbè, dai. Studi, che cosa pretendo di studiare, diciamo, sì. Allora, astrofisica. Io mi occupo di formazione stellare. Io studio come si parte da una bella nube di gas, pian piano questa collassa e forma le protostelle e poi le stelle. Tutto ciò di cui è esattamente non parleremo stasera, per l'appunto. Certo, perché oggi parleremo di filosofia. Di filosofia, esatto. E non è uno scherzo. E non è uno scherzo. In effetti, parlando con te, io ho capito come si chiamerà il mio nuovo spettacolo. Ah, beh, mi fa piacere. Perché non so se poi si verificherà questa cosa. Io generalmente ho tanti piani, poi mi perdo ogni tanto per strada, quindi non lo dico così. Si chiamerà non parliamo di formazione stellare. Ma comunque non parliamo di formazione stellare. Però, di recente, sono stato invitato dalla Slim Dogs a parlare di Wormel, perché c'era un episodio dedicato a Rick and Morty. La pistola spara portali di Rick and Morty è palesemente un Wormel, quindi ci siamo beccati sacco di volte. Cioè, la vedi, è la prima cosa che pensi a un Wormel. È un portale spazio-temporale che ti permette di viaggiare nello spazio-tempo. Nello spazio-tempo, esatto. Lo chiamiamo Wormel, no? Non fa così di sufficienza. Ma tra di voi lo chiamate Wormel. Esatto, in amicizia. Vabbè, quindi ci siamo ritrovati a parlare per un botto di sere di sta roba qua, quindi anche del concetto di spazio-tempo, della possibilità di che esistano altri universi. Del principio antropico. Adesso si colperemo tutto questo meraviglioso mondo. E quindi oggi ti voglio portare all'interno della mia mente, delle mie conversazioni con i miei amici, di una situazione un po' bizzarra, anche perché secondo me è molto figo come concetto. Ok, parleremo anche vagamente dei supereroi, di Hulk, oppure no? No. No, era l'unica cosa che sapevo. Vabbè, ok, vabbè, non fa niente. Quanto sei dozzinale. Non mi dispiace. Vedrai quanto imparerai alla fine di questo contesto. Ma io sono curiosissimo. Infatti, cioè, proprio, vorrei farti una prima domanda, ma siccome la prima domanda che potevo farti è, quindi questa formazione stellare che cos'è? E mi hai detto che non... Non ne parleremo. Non ne parleremo. Allora, da che vogliamo partire? Dal multiverso? Ma perché no? Prendiamo un argomento così, tanto vero. Partiamo di una roba... Io non so come iniziare una conversazione tra i scienziati. No, perché parlando di supereroi, una delle cose più, diciamo, bizzarre che sta venendo sovrautilizzate nell'ultimo periodo è il concetto di multiverso. Poi ognuno ce l'ha in modo diverso, no? Ci sono i multiversi dove ci sono un sacco di realtà parallele con tu, ma con un cappello da pizza in questo momento, sono speso a galleggiare sulle tue chiappe e altri universi fantastici. Posso dire la mia versione che preferisco. Diciamo che tu sei la versione più sfigata di tutti gli interessi a questo punto. E sono infiniti, calco. Pensa che sfiga. Immagina quanti altri universi ci sono in cui tu potresti essere qualunque altra persona, per esempio. Non sarebbe strano? È bello pensarlo, però magari fosse così. Figo, figo. Invece no, in questa realtà sei proprio tu, Daniele Fabri, è così. Come fai se sapete se sei tu sempre, però? È stata una domanda molto... Ma tu ti senti te stesso? Cioè tu la mattina ti svegli e ti senti lo stesso di ieri? Beh, ai 5, 8 di mattina appena me è arso, non provo. Sì, no, non è che io devo... Alle 11, vai, fai pure alle 12. Nel momento in cui non ti senti te stesso è un altro problema, quella psicologia, insomma, ogni altra parte mentale, insomma. Però generalmente tu sai di essere te stesso e sei pure che non hai mai incontrato mai più un altro te stesso, diciamo. Io adesso mi sento me stesso, più devo sì, non te so di un certo. Tu sei, se sei nel Fabri c'è poco da fare. Eh no, è la mia... Certo, io, questo è il mio tempio, diciamo, posso cambiare. Ma il bello è comunque questo, cioè il bello è che alla fine, capito, tu immagini questa roba qua, però a livello di, diciamo, plausibilità scientifica è lì che dovremo andare a parlare. È qui che adesso andiamo nella parte più interessante. Cioè, è plausibile questa roba, ma soprattutto qua... Spoglio, no. Che bene, la butti là così, che caso, vabbè, grazie, ciao, ciao a tutti. Gli ad di YouTube dovranno partire, no. No, in realtà però sul Wormle soprattutto a livello teorico, rispetto a tanti altri discorsi e potremmo fare l'arco della lunga serata, non è escluso a livello teorico. Allora, dobbiamo spiegare a Daniele che cos'è un Wormle. Io sono ignorante, Daniele e Fabri, sono molto ignorante al riguardo. In realtà in generale non ho mai studiato... Allora, partiamo dal principio. Allora, spiega che cos'è un Wormle. Allora, partiamo da cos'è l'universo. Quanto tempo abbiamo? 6-7 ore? No, ok, facciamo una cosa breve. Allora, c'è l'universo. Intanto cos'è l'universo? Perché già questa è la domanda fondamentale. Perché il Wormle potrebbe connettere due punti del nostro universo nello spazio-tempo. o anche più universi. Stai già dando per scontato che la gente sappia che cos'è un Wormle. Diciamo che... Quindi prima che spiego il Wormle. Partiamo dal principio. Diciamo che il Wormle è una sorta di portale che si apre, dovuto alla topologia dello spazio-tempo. Ah, invece topologia dello spazio-tempo... No, no, ti spiega. La topologia, perché immaginati lo spazio-tempo... Come un materazzo. Come se fosse... Non lo so... Non so a te che piace, dimmi da... Sai che è la topologia della Terra che c'è tutta frastagliata, che non è... Una topologia della Terra. Inrepensibile topologia della Terra, sì. Perché c'è anche spazio. Quindi lui ha capito, io non ho altro... Allora, prendi un pallone da calcio, no? Che ha tre dimensioni, fai finta che tu vivi sulla superficie del pallone da calcio. Ok. Tu vivi una superficie 2D all'interno di una sfera 3D. Tipo il pianeta del recaio, scusa, per capire meglio. Il pianeta del recaio, ok. Immagina questo, adesso la cosa più semplice da fare è prendere questo e stenderla a un'altra dimensione. Immagina un pallone, immagina, ma proprio fantasia. Immagina che il pallone ha quattro dimensioni, il respaziale è una temporale, e tu vivi sulla superficie di questo pallone che si espande nel tempo. Questo è il nostro universo. Ok. Oh, così non l'avrei capito manco io, però, con pace, con tutto il bene del mondo. Vabbè, allora, spiegati la topologia, vai. No, però apprezzo... Hai sposto? Spettativo, no, infatti. Daniele Fabri ha capito. Ma io faccio satira, regà, non so se cose, non le so, cioè, le so, ma le tratto in una maniera più spirituale. Più leggera, più divertente. Sì, esatto. Adesso ci troverete un sacco di cose divertenti in questo. Comunque, noi abbiamo questo universo che si espande nel tempo, tre dimensioni spaziali e quella temporale, che si parlano tra loro. Ok. A un certo punto il wormhole ti permette, tu sai che, fino a qua questo che ti sto per dire, sono sicuro che lo sai, la velocità massima a cui si può andare è la velocità della luce. 88 miliardi, ah, scusa, no, c'è la regia. Quella è per andare in piano nel tempo, quella è la velocità massima in piano nel tempo. C'è la regia, c'è la regia. Ma se invece vuoi andare, vuoi trasmettere segnali, la velocità della luce è 300 mila chilometri al secondo, questa è la velocità massima a cui un segnale può andare all'universo. Che vuol dire che se tu vuoi andare a 300 mila chilometri a qua, c'hai un secondo di tempo, se sei un fotone, se vuoi andare a miliardi di anni luce da qua, la cosa diventa impegnativa. E comunque fotone a lui non glielo dice, capito? No, scusa. Se era detto che si poteva offendere a questo potpac. Grazie. Bip! Perché comunque qua... Ma scusa, non pensavo che non si potesse offendere a questo potpac. Ma guarda, in realtà è una parola grossa, però... Fotone, però il nome è anche una grossa. Io so contento delle parolacce, quindi per me le puoi anche dire, però ricordiamoci che c'è un pubblico a casa che dici fotone e quelli fanno... Fotino. Fotino, 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 fotino. Per spiegare lo spazio-tempo, comunque la quarta dimensione, ho immaginato una cosa, non so quanto sia plausibile, perché è complicato, il problema è il dito in culo, è che noi sto cazzo di tempo non riusciamo a vederlo, non riusciamo a percepirlo. Quindi ok, lo spazio lo percepisci, lunghezza, larghezza, altezza, quello è lo spazio nelle coordinate cartesiane, quello che conosciamo. Il problema è sto tempo, che è la quarta dimensione, no? Il problema è sempre il tempo. Ok, è sempre il tempo il problema. Oh, wormhole, che tra l'altro in inglese significa... Buco di verme. Cosa pensavi? Verme solitario. No, no, avrei detto... No, questo scusa, dicevo a te, vuoi sapere che wormhole come... Vabbè, io non lo so, allora vi saluto, ciao, che cazzo... No, si chiama buco di verme, è una definizione che è stata data negli anni 50, per via del fatto che te lo devi immaginare come se tu stessi camminando sulla superficie di questa mela, e questo è quello che tu puoi fare generalmente, però se scavi un buco, se sei un vermo e scavi un buco nella mela e puoi andare dall'altra parte direttamente, stai creando questo wormhole. È un tunnel. È un tunnel. Un tunnel a spazio temporale, non ti senti più offeso del tuo tunnel a spazio temporale? Esattamente il wormhole mi sa più del buco di culo di verme, quindi il tunnel a spazio temporale era più chiaro fin dall'inizio. Ma te pare che devo fare la parte chiara di questa definizione scienziata? È qui stoccata. Qui stoccata. Adesso cambia con me allora, dopo la stocca. No, comunque il fatto, mi sono dimenticato cosa stavo dicendo. È il tunnel a spazio temporale. È il tunnel che ti connette due punti dello spazio tempo distanti anche ai miliardi di anni luce senza per questo rompere le leggi della fisica, così lo conosciamo, perché tu passi attraverso questo tunnel, quindi in qualche modo tagli, una sorta è scorciadoia a spazio temporale. Ok, quindi abbiamo cambiato le leggi della fisica. No, 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 no. Il wormhole è previsto. Come alle feste, quando io poi dico una cosa e tutti gli scienziati, no, è questo no, però. È questo no. Il wormhole è previsto dalla relatività generale di Einstein. È previsto, non è stato osservato, perché tecnicamente ci sono una serie di ragioni, non si sa se è poco stabile, non si sa se i buchi neri sono tutti quanti buoni, non si sa un cazzo, in sostanza. Beh, abbiamo osservato un buco nero finora al centro della galassia M87, se non ricordo male, che era l'aiuto del pubblico, la foto del buco nero che abbiamo fatto con la cattina. Una foto che era uscita poco tempo fa, figa. Esatto. Mi sono appassionato in quel momento, però soltanto perché mi piace la fotografia. La foto dell'orizzonte degli eventi intorno al buco nero, non è il buco nero, ovviamente, perché se no diciamo in precisione che noi non vogliamo dire, no? Non le vogliamo dire, no, no, no. Ci mancherebbe altro. Non vogliamo proprio. Però in realtà i buchi neri che poi formeranno eventualmente Wormle, parliamo di buchi neri anche molto più piccoli, parliamo di un buco nero supermassivo, milioni di masse solari, che sta al centro di una galassia molto grande, insomma una storia diversa. Parliamo di oggetti più piccoli che con questo buco nero, intorno al buco nero formano questo raggio di Swarczy, cioè quello all'interno del quale si forma poi il buco nero, all'interno del quale a sua volta si potrebbe creare una sorta di cunicolo spazio-temporale connettendosi con un altro buco nero, con un buco bianco, qua. Siamo in quello che si chiama scienza di confine. Abbiamo un problema con i microfoni che calano? Lo so, lo so, non c'è bisogno che lo diciamo in diretta, però. Lo fai a morscià tu i microfoni. Vediamo se regge in questo modo. Prego. Dicevo, siamo in quelle che si definiscono scienze di confine, cioè scienze, pseudoscienze, se vuoi, è proprio una definizione, scienze di confine, cioè dove noi non abbiamo. Le scienze sembrano anche la roba. Anche le scienze, perché il concetto è quello, cioè scienze che non hanno dei veri e propri appigli osservativi, non predicono nulla di fatto che si può osservare. Però possono essere predetti attraverso delle equazioni matematiche, già in lontano. Allora, nel caso di Wormle sì, però nel caso del buco nero che si connetta a un buco bianco, quant'altro, per esempio, là andiamo sulle scienze di confine, il multiverso stesso. Sono scienze che non possono essere dimostrabili per la definizione stessa di multiverso e di concetto di universo, di cui a un certo punto parleremo, mi immagino. Beh, siamo qui per questo. Anche perché la cosa mi affascina molto, mi sembra molto quei dibattiti che si facevano proprio, che facevano i primi scienziati naturalisti, sai, no? Che non sapevano un cazzo di scienza, però immaginavano come poteva essere l'universo oltre le stelle, che cosa potevano essere le stelle. Alla fine siamo in quella stessa condizione. Noi stiamo osservando una piccola parte dell'universo che conosciamo, riusciamo a capirne una piccolissima parte, tutto il resto non lo conosciamo e lì c'è ampio spazio per fantasticare. Noi siamo qui oggi per fantasticare. Quindi quando tu sei a scuola e sai una minima parte di quello che dovresti sapere, tre. Invece nella scienza è la ricerca, il futuro. Esatto. Perché se tu... Ma la sei tu. A scuola tu le potresti sapere, che non le vuoi sapere. Qui invece non le puoi sapere, perché tu ci stai provando tantissimo a sapere. Ti stai applicando. E io come faccio a sapere che tu non le puoi sapere o semplicemente che non te va del lavorà? Eccolo lo scettico. Ecco. Il negazionista. Il negazionista dell'universo. Quanti multiversi ci sono là fuori che noi non ci va di studiare? Diciamolo. Allora, mentre voi parlate, io verso la Marula, che so che lui è un gran fan, è un liquore che avevo preso in Sudafrica, in Uganda, scusate per la botta al microfono, e quindi io vi verso un bicchierino, perché ci sta. Così ci sciogliamo e iniziamo a parlare come si deve di multiverso, perché giustamente no. Di buchi. Mi chiedo per quale ragione ci sono due tazzi a tavola, cioè chi è di noi che non beve? Ci sono i bicchierini. Ah, perché noi vogliamo degustare la Marula, mi piace, facciamo sciottini di Amarula. No, ci facciamo il caffè e il latte con la Marula noi. Il argomento è impegnativo, magari un bicchierino in più. Eh certo, perché poi in quel modo riusciamo veramente a parlarne in una maia, soprattutto a capire. Li vediamo, a quel punto li vediamo. Io ho capito che non ne so una mazza, mi fai una tazza di Amarula e poi improvvisamente la fisica quantistica la parlo, non è che la capisco. Bravo, il concetto di multiverso si basa proprio sul fatto che stiamo cercando di unire fisica quantistica e gravità, quella che è la gravità quantistica, prendiamo alla alla gravità quantistica, alla gravità quantistica. Mi raccomando, grazie a Sputi, da oggi in poi, se siete con gli amici non sapete a cosa brindare a una cena. Boh, alla gravità quantistica. Nessuno vi dirà mai di no. Ma quanto è buono. L'adoro. Allora, è a metà tra Bayless e Big Bubble, è fantastico. È incredibile. Cioè, è fantastico e contemporaneamente mi fa sentire come quando ero minorenne e mangiavo le Big Bubble, quindi non dovrei avere dell'alcol in mano. Perché tu mangiavi le Big Bubble. Certo, è la mia merenda le Big Bubble. Al momento c'è un blocco di Big Bubble. I miei genitori erano contrari alle merendine e a tutto quell'altro cibo zuccheroso che c'erano tutti i miei amici, mi concedevano solo le Big Bubble e io me le mangiavo. È il Bayless, giusto? Il Bayless è arrivato a 18 anni. Quindi, ripartiamo. Ripartiamo dal multiverso. Partiamo dal multiverso. La definizione di multiverso è abbastanza intuitiva, se vogliamo. Nel momento in cui definiamo universo tutto quello che ci circonda, che possiamo vedere ed osservare, per multiverso si intende tutti quegli universi che in qualche modo non comunicano, non semplicemente o non direttamente, con tutto ciò che noi possiamo vedere, osservare o considerare il nostro universo al Big Bang in poi. Il punto è che qua si apre un mondo, perché poi ci sono tantissime teorie del multiverso. Alcune che sono scadute appunto nella scienza di confine, altre che sono proprio pseudoscienze. Per esempio, ti faccio un esempio. Metti che in questo momento tu diventassi un'altra persona. Metti. Ci sarà un universo in cui tu rimani te stesso e un altro in cui l'altra persona non si è mai scambiata con te. Questa cosa può esplodere all'ennesima potenza. Ci sono infiniti universi, infiniti possibilità, in cui ogni bivio, in realtà entrambi generano due universi diversi. E così via. Perché poi ogni bivio ha i suoi bivio e via di via. Questo rientra nel discorso della meccanica quantistica che adesso Barbascura ci illustra. No, più che altro, tornando ai film e quindi ai supereroi, no? Un multiverso del genere è quando c'hai un viaggio nel tempo, però torni nel passato, no? Per esempio, ogni volta che torni nel passato tu hai due scelte. O riscrivi tutta la storia successiva a quel momento in cui sei tornato, perché giustamente altrimenti creeresti un paradosso, non ci possono essere due linee temporali diverse, no? Quindi devi riscrivere tutto. Il problema è il tempo di cui dicevamo prima. Oppure, nel momento in cui torni, crei un'altra linea temporale. Quindi c'hai una linea temporale che si mantiene esattamente quella che era e nel momento in cui tu arrivi, crei un'altra linea temporale, una deviazione, una sorta di linea temporale parallela. Che non comunica con la prima. Che non può più comunicare con la prima. Che prevede che tu sia tornato in quel momento. Quindi si riscrive tutto quando... Si riscrive da quel momento inizia un'altra storia. Esatto. Ovviamente questo a me ha sempre fatto ridere, ma per un problema molto serio, no? Supponendo che in futuro noi fossimo in grado di inventare un modo per viaggiare nel tempo, cosa di cui sono convinto non sia possibile, per una serie di ragioni. Anche semplicemente per il fatto che noi non abbiamo mai visto o incontrato qualcuno che è mai tornato indietro nel tempo, a meno che non sia mai voluto tornare. Magari l'hanno fatto, non vogliono tornare da noi. Però supponendo che io adesso, a un certo punto, abbiamo altri ospiti? Prego, prego, venite. L'argomento è divertente. Stiamo parlando tanto di spazio-tempo, meglio di così. Perché, a voglia, un attimo momento. Ciao. Accomodatevi pure. Dove trovate. Dove trovate. E partecipate attivamente. E ti fate domande. Potete fare domande dal pubblico, siamo qui per questo. Per rispondere a domande che nessuno si era posto e di cui comunque non siamo in grado di dare risposta. Esatto. Anche perché ci perdiamo con le spiegazioni a vicenda. Anche perché vedo dei voli vindarici che stanno allontando. È vero, stiamo un po' complicando. Però, no, a quel punto, se a un certo punto della storia qualcuno inventasse un modo per viaggiare indietro nel tempo e quindi fare questa roba per cui si creano universi paralleli. Più scritture. Quanti universi paralleli puoi creare prima che collassi tutto? Però perché dovrebbe collassare se sono infiniti? Poi collassare dove? Eh beh, il problema è quello. Cioè, se sono infiniti, cioè significa che tu puoi... Ok, ma infiniti dove? Come? Cioè, comunque... Allora, poi stiamo creando infiniti universi in questo caso. Cioè, il dibattito grosso che c'è sul multiverso, se così lo vogliamo chiamare, è sul tipo di universo parallelo che tu puoi creare. Perché in questo modo tu stai creando infiniti universi paralleli con tutte le possibilità nel tempo di tutti i bivi che ti possono passare per la mente, che sono esattamente copie, con evoluzioni differenti, dell'universo di partenza. Il che vuol dire con le stesse leggi fisiche, con le stesse volle delle costanti cosmologiche, con le costanti fisiche e così via. Quindi universi a tutti gli effetti simili, se non identici, a quello di partenza appunto con evoluzioni differenti. Ok. Che non si possono a loro volta incrociare, ma che in qualche modo determinano quella che è una classe di multiversi, se vuoi. E appunto i multiversi self-similari a loro stessi, in qualche modo. Ok. Ti faccio una citazione di classe. Sì, ma poi io ho una domanda. Tipo, no, Trunks del futuro. Sì. Sai che lui va nel passato, fa quello che deve fare, poi ritorna nel futuro e torna nel suo futuro. Sì. Questa cosa non sarebbe possibile. Questa non sarebbe possibile. Perché torna nel futuro, ma dell'universo che ha salvato. Non potrebbe tornare in un altro universo, altrimenti sta viaggiando non per l'universo. Perché non si viaggia tra multiversi. Secondo questo modello. Però di fatto noi non abbiamo mai incontrato nessuno dal futuro, appunto come dicevamo prima. Il che ti lascia sospettare che questa teoria, se così la vogliamo chiamare ma non lo è, ha un suo fondamento fino a prova contraria. Ok. La mia domanda sarà banale, però se tu, insomma, diciamo in qualche modo accerti, tra virgolette, questa possibilità, ma non hai modo quindi comunque di spostarti da un universo all'altro. È bravo. E qui arriviamo a... Perché la chiamano... Che te ne frega la mia domanda. Perché io la prima cosa che sto pensando dall'inizio è... È inaccettabile. Quindi ci sarà un universo in cui tipo... Lo vedi, lo vedi? È qui il calcasi. Ho scritto scientifico. E poi dici perché uno ti offende. Perché voglio dire, non ti incuriosisci, non ti interessi degli altri universi. No, io sono curioso. Però mi stavo chiedendo... Io, mentre faceva tutto il discorso, dentro di me pensavo... Quindi forse un giorno andrò in un posto dove il fisco è migliore, no? E poi mi avete detto no. E io quindi sto a rosicà. Quindi, ma la cosa è... Se noi scopriamo questa possibilità, ma sappiamo che comunque non abbiamo come esseri umani possibilità di scegliere dove stare. Di base, al di là della soddisfazione scientifica. Non abbiamo possibilità in nessun caso. Scusa, a me ne pagano la soddisfazione scientifica, quindi rattrago rispetto. A parte che lui è letteralmente... Allora... Questo è il suo lavoro. Va bene, scusate. Scusate. La soddisfazione scientifica. Non avrai altro nella vita, va bene? Esatto. Cioè, voi come amici la soddisfazione scientifica, capisci? Chiedo scusa, chiedo scusa. Lo dirò con rispetto. Al di là della soddisfazione scientifica... Che cacchio ci fanno? Cioè, quali altre possibilità ci potrebbero essere per... Per questo avere questa informazione, cioè, sapere questa cosa e farci qualcosa. Stiamo speculando su una scienza di confine, per l'appunto, su qualcosa che al momento non è neanche lontanamente dimostrabile. Per cui stiamo veramente speculando davanti a un bicchiere da marula. La risposta è nulla. Ciò non toglie che la stessa risposta sarà stata data probabilmente quando hanno iniziato a speculare sul valore della meccanica quantistica, nei primi del Novecento. Per poi scoprire che oggi, buona parte della tua vita è influenzata dalla meccanica quantistica. Ciò non toglie che un dopo-dopo-domani sapremo veramente costruire un wormhole che ci fa viaggiare nel tempo. Ne dubito. Però, perché sicuramente ha speculazioni filosofiche. Però a calco che queste speculazioni, secondo me, aprono un mondo fondamentale su un altro aspetto della vita umana in generale, che è sull'interpretazione del ruolo dell'uomo nell'universo. Se vuoi, sfociando anche nella religione. Adesso andremo a parlare del principio antropico e così via. Oh, vai! Oh, io lo sapevo che toccavo il tasto che ti piaceva. No, comunque, vabbè, questa del multiverso era una delle possibilità. Ce ne sono altre che a me piacciono di più, francamente. Le vedo più plausibili, nonostante non sappiamo niente. Cioè, quella che a me piace molto è alla base, diciamo, del Big Bang. Cioè, quello che sappiamo noi del Big Bang è che tutto ha avuto origine da un punto, chiamiamolo così. Una particella, non è mai una particella. Non possiamo definirle in nessun modo. Sto cercando di trovare un termine che in qualche modo ti possa far visionare. Immagina qualcosa di molto piccolo che contiene al suo interno l'energia dell'intero universo conosciuto. Una caccola fotonica. Esatto. Fotonica, diciamo, molto più che fotonica. Fotonica, secondo me... E lo scienziato non approva queste definizioni. Sì, sì. Non siamo qui per approvare. O è una festa dove cazzeggiamo o è un incontro accademico. Non può essere quello che vi pare quando vi pare a voi. No, io lo faccio chiaro per il punto. Comunque, se tu consideri il Big Bang, da dove è avvenuto questo Big Bang? In un... Boh, in uno spazio. In una schiuma quantica di stringhe, se ti piace. Non esagerare, stiamo parlando con Daniele, per favore. Ma tanto non ci crede nessuno. Tu lanci queste domande e a me mi viene in mente Matera e quindi poi va tutta soltanto. E quindi, va bene, ascolto. No, però, supponendo... Inefinito. Nei film lo chiamano iperspazio. Chiamiamolo iperspazio. In realtà non solo i film. Ci sono delle teorie dell'iperspazio. Cioè questo spazio al di fuori del nostro universo, dove però non ci sono le nostre leggi fisiche. Nulla torna perché non hai proprio niente di riconducibile a quello che conosciamo noi. Quindi non c'è la materia, non c'è le dimensioni, non c'è il tempo. Dimensiona, come sappiamo. Anche le dimensioni potrebbero essere diverse, perché si parla appunto di questa schiuma che a un certo punto ha creato diversi universi nel tempo, uno è il nostro, e altri potrebbero avere leggi fisiche completamente diverse, un numero di dimensioni completamente diverse, fino a massimo di 11 a seconda teoria, ma questa non ti interessa. Però diciamo tutta una serie di dettagli per cui nel nostro specifico universo a un certo punto, secondo questa teoria delle stringhe, potrebbe essere esplosa con una di queste bolle, così come le chiamano, che ha dato vita all'universo formato da quattro dimensioni, tre spaziali e una temporale, dalle costanti fisiche e colori che conosciamo oggi, che ci hanno permesso di arrivare fino a dire queste quattro cazzate sull'universo di oggi. Asterisco, ma quella cosa delle unici dimensioni non mi interessa o non la sai? No, la so. Allora la voglio sapere. Ecco. No, Coppa, non la vuoi sapere. Non la voglio sapere. Perché ne te, ne loro non lo sapete. Non la voglio sapere. Coppa è un bordello, fidati. Cioè, proprio un casino. Facciamo la sfida, perché fino a tre dimensioni ce la facciamo. La quarta, la immaginiamo, dalla quinta in poi ce la devi descrivere. È facile, dalla quinta in poi sono tutte arrotolate su loro stesse e su dimensioni infinitesime. Non le potremo vedere, quindi ci sono, ma non le percepisci. Eh, vabbè, allora. Vabbè, ci sono, ma non le percepisci. Bravo. L'ha detto che andava a finire la religione. C'è, ma non si vede. Pianta, non rompere le palle. Io vi voglio portare là, perché la parte che mi interessa è il discorso. Aspetta, faccia vedere questa cosa. Io voglio farglielo visionare questa cosa. Vedere queste undici dimensioni. No, no, scusa. E immaginati, dato che tu sei uno sceneggiatore di fumetti, immaginati l'iperspazio, come uno spazio bianco senza niente, infinito. La stanza dello spirito del tempo. Certo, è bianco, però. Bianco, non c'è niente. Vabbè, ho capito, ma come cazzo lo fai visionare? Una tavola bianca, che però non è bianca, devi avere fantasia, scrivi, non è bianco sul disegno, vabbè. Un'altra volta è Dragon Ball. Io lo parlai in formazione stellare. Perché sono persone di cultura. Una coccia di niente, vabbè. Non c'è niente, niente. Non c'è luce, non ci sono fotoni, non ci sono elettroni, non ci sono particelle fondamentali, non ci sono elettroni, non c'è niente di niente. Niente che tu possa manco vagamente comprendere. Il vuoto. In questo vuoto ci sono un sacco, ma manco vuoto, non c'è proprio manco un cazzo di niente. C'è, ci sono delle palline piene di energia, che contengono l'energia di interi universi. Ogni tanto questi qua esplodono. Vero. I popcorn. Bravo. Che non è un'esplosione poi, è un'espansione esponenziale. È un popcorn. Popcorn multidimensionale dall'altro. Non mi complica il popcorn adesso. E lì esce il nostro universo. Però questo non toglie che questa cosa possa succedere altre volte, se non infinite volte, ad altre particelle, altri popcorn. Cioè noi non sappiamo quanto popcorn c'era in questo momento. Quindi, bravo. E qua arriviamo al punto. È possibile che oltre il nostro universo ci sia l'iperspazio con altri universi, che hanno avuto origine esattamente come il nostro universo, quindi come il Big Bang, e che sono altri universi. Però il problema è questo. Se tu cambi un pochino questa implosione, no implosione, scusami, questa espansione. Sì, espansione è corretto, bravo. No, c'è un altro termine che non mi sta venendo adesso. Inflazione. Inflazione, mannaccia la miseria. Se tu cambi un pochissimo, ma proprio un pochissimo, il modo in cui questa cosa avviene nelle altre palline, vieni a creare un universo, ma con leggi fisiche diverse dal nostro. Quindi potresti cambiare un po' le nostre costanti. Cioè quelle che noi chiamiamo costanti diventano variabili. O variabili, chi lo sa. E quindi hai altri universi con tutte queste costanti fisiche completamente diverse e potresti trovarti in un universo in cui, ad esempio, l'aggregazione di particelle subatomiche non è in grado di funzionare come è qui e quindi non è in grado di formare gli atomi. Esatto. E quindi gli atomi non sono in grado di formare le molecole. Di conseguenza non è in grado, in quel universo non solo non c'è niente, ma sicuramente non ci sarà mai vita. Oppure un universo in cui la forza dei gravità ti tira verso sinistra. Per esempio. Ad esempio. Oddio, ultimamente. Nell'universo in cui siamo collassati, mi sembra. Ok, va bene. Il concetto di come questa cosa possa essere avvenuta, diciamo che bene o male è chiaro. Quindi questo apre, secondo me, un dibattito filosofico, perché di quello si parla a questo livello, a mio avviso molto interessanti, non ci fermo la notte su questi dibattiti, il principio antropico, che viene proprio da questo discorso. A un certo punto uno di questi scienziati che studia questa storia, tale Carter nel 73, ha detto, ma ragioniamo su questa cosa. Se il nostro universo è questo, ed è così, allora noi siamo osservatori privilegiati, il principio antropico si vide in due branche, diciamo, quello che definì lui, debole e forte. Lui ha detto, principio antropico debole, ha detto anche principio antropico grazie al cazzo. Ci spiego perché, è proprio la definizione che ha dato Carter, secondo me, che dice, Allora, noi siamo... Prudisamente la laurea assume tutto con un altro significato. Questo è il dottorato, questo è il dottorato. È il dottorato. Che presente dice, noi siamo osservatori privilegiati, in quanto siamo in grado di osservare l'universo in cui siamo. Come lo definiresti questo principio? Botta di culo. Bravo, è tutto là il discorso, bravo, perché è proprio quello il punto, botta di culo o una mano che ha... È molestia però. È molestia. Però poi a quel punto va il principio antropico forte, che se non è ancora più bello, perché a quel punto esageri e dici, ok, non solo noi siamo privilegiati, ma... Non solo la mano, ma... Esatto. Scusate. Scusate. Il principio antropico forte... Che dice, l'universo deve, quello è il punto, deve avere le condizioni tale per cui un osservatore possa essere in grado di osservarlo. Perché? Ah, è che lo chiedi a me, poi ti chiamo a qualcuno. Partendo dal presupposto che questa è una delle tesi utilizzate dai creazionisti. Infatti, poi si arriva, no? Perché a quel punto questa tesi in realtà è ancora peggio, perché poi dopo questo principio è stato espanso da altri due nell'83, di cui io mi ricordo benissimo i nomi, tipo Barro e Tripier, ma credere aiuto del pubblico, nell'83, perché dopo il principio antropico debole e forte, che loro hanno vagamente rivisitato, ma non ve lo sto a spiegare, c'è il principio antropico unico, tipo... Sborone. Che è anche il principio antropico sto cazzo, se vuoi, proprio esagerando, perché questo è proprio sborone. Che dice che l'universo deve creare vita intelligente in grado di interpretarlo, e questa non dovrà estinguersi mai. Eh, se ci pensi, non è lontano da quello che scriveva Lovecraft, no? Che c'era quella divinità addormiente che nel momento in cui si dovesse svegliare farebbe risucchiare l'intero universo, perché l'universo non è altro che un suo sogno. Cioè, in fin dei conti, no? Sì, sì, sì. La domanda è sempre quella, un albero che cade in un bosco senza nessuno che è in grado di ascoltarlo, esiste, è mai caduto. E quindi la domanda diventa, un universo senza nessuno in grado di osservarlo, esiste? Questa è una domanda filosofica. La domanda che è quella chiave del discorso che stiamo facendo stasera, come era chiaramente, ovvio, tutti i dibattiti ho fatto finora. Io non lo so, ero venuto qui per la marula. Volete un refill a proposito? Ma non ti dirò. Però, se ci pensi, per quello poi non deve estinguersi mai quella vita, perché nel momento in cui si estingue, se nessuna vita intelligente è in grado di osservare quell'universo, quell'universo esiste? Parliamone. Davvero ne vuoi parlare? Cioè, allora... Non mi hai invitato, a questo punto facciamo finta... Sì, no, era un po'... Allora... Eh? Però questo, quanto è ecocentrico, secondo te? È una cifra ecocentrica. È una cifra ecocentrica, vero? Allora, torniamo, al discorso che facevo prima io della botta di culo. Bravo. Nel senso, è comunque una teoria il fatto che debba esistere quindi un osservatore, altrimenti... Allora, questo non è neanche una teoria, perché di fatto non dà predizione. No, ma non ha niente a che fare con la scienza. No, no, ho capito. Cioè, per esempio, in realtà c'è alcuni che la definiscono teoria, perché lui, alcuni di questi nel principio ci mettono il fatto che l'universo, in quello forte, deve generare vita basata sul carbonio. Quindi quello che dici è che tu, se non osservi vita non basata sul carbonio, questo rafforza il fatto che la teoria funziona. Però lì rischiamo sulla teoria grazie al cazzo, per certi versi. Nel senso, nel momento in cui noi sappiamo, dal principio cosmologico, che tutto l'universo che osserviamo è in qualche modo omogeneo e disotropo, quindi le regia fisica valgono ovunque, se noi qua vediamo che l'unica forma diversa che si può creare è quella a base di carbonio, è ragionevole pensare, siccome le regia fisica sono le stesse ovunque, che ovunque tu guardi, creerai vita a base di carbonio. Però il ragionamento non è sbagliato, perché come ti ho raccontato in un'occasione, ricordo benissimo, però in realtà tutta la vita che si è originata, si è originata per frutto del caso, perché ci sono delle molecole essenziali, come gli amminoacidi o altre piccole molecole, diciamo, delle macromolecole fondamentali per la vita, che sono facili da assemblare. Devi aspettare che una di queste impazzisca, diventi una macchina impazzita che si riproduce, ma non perché ha uno scopo, perché si sta riproducendo e continua a farlo. E ovviamente, dato che si formano altre molecole che sono in grado di riprodursi, continuano a farlo. Con la vita ad altre cose. E poi pian piano c'è tutto il discorso evolutivo. Ed è di nuovo una botta di culo però, quindi. Ma è quello il punto, perché quando tu parli con un creazionista dell'evoluzione, il discorso è sempre là, perché guardi la vita con un'ottica finalistica. Esatto. Quindi tutto deve andare esattamente per portarci al punto in cui siamo ora. Ma in realtà noi siamo a questo punto qua per caso, per botta di culo. E siamo qui a ragionare sul fatto che tutto doveva andare in questo caso, in questa direzione, semplicemente perché noi ci siamo finiti. Perché ci troviamo lì dove dobbiamo essere. D'altra parte, la domanda è legittima. Nel senso, perché casualmente, o no, non lo so, a parte come si è creato questo universo, non lo sa nessuno. Cioè, cosa originale il B-Bank non lo sa nessuno. Ma perché l'ha originato? In modo tale che noi siamo in grado oggi di parlarne. Però questa cosa, se tu accetti il casualmente chiederti il perché sulle cose casualmente... Ma la difficoltà qua è che tu non hai idea del meccanismo. Mentre un meccanismo che ti può generare casualità nella generazione di primi aminoacidi e poi delle forme di vita lo sa, lo sai, diciamo, tra virgolette hai un'idea di come funziona, di come le molecole si uniscono per poi poter formare molecole più complesse e così via, lo sai. noi a un certo punto della storia dell'universo non sappiamo. Per cui è difficile assumere... È difficile dire che casualmente si è creato questo B-Bank se tu non hai idea di come si creano i B-Bank. Infatti, il problema di fondo secondo me è questo. Per un essere umano il concetto di caso è un concetto quasi inammissibile e difficile da immaginare. Ma perché siamo stupidi? Perché siamo stupidi? Ma parla perché? Perché stiamo parlando di... Ma perché il nostro cervello è programmato per fare delle operazioni semplici? Non tutti i cervelli perché è quello il punto. Cioè, devi arrivare a un certo punto in cui tu capisci come funziona questo meccanismo e lo devi aver studiato. Ovviamente però all'inizio tu ragioni con un fare finalistico. Ragioni con io mi sono trovato in questa situazione perché ci dovevo finire e quindi qualcuno mi ha condotto in quella direzione e era l'unico esito possibile. Non rendendosi conto che in realtà è uno dei tanti esiti e noi siamo qua soltanto perché è successo. Ma questo vale per tutto. Ho una domanda chiedo, non so se potrebbe essere vera questa cosa. Siccome il principio appunto di vedere la vita in maniera finalistica è comunque una roba che l'essere umano si è costruito da solo. Certo. Perché? Perché all'origine della specie umana quando l'uomo osservava i fenomeni naturali e tutti i cacchi e cercava delle risposte. Siamo quelli che cercano delle risposte. Esatto, però non c'aveva degli strumenti scientifici sofisticati quindi si è dato delle risposte semplici ma darsi queste risposte semplici e poi applicare queste risposte semplici a livello sociale nel percorso evolutivo dell'essere umano ha proprio formato il cervello degli esseri umani in questo modo. Cioè il cervello dell'essere umano si è autogenerato alimentando la sua funzione di ricerca di una risposta e quindi non ammette il pattern che non ti dà una risposta. può essere sta roba non è tantissimo non sono d'accordo io credo che se tu prendessi una non è di essere d'accordo io sono una domanda no 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 nel senso qui ovviamente stiamo parlando come sempre di teorie dovresti fare un esperimento prendi delle persone dei bambini appena nati li butti su un'isola deserta senza nessuno senza società e vedi cosa succede a quella società e ci vai a parlare in realtà ci sono delle società diciamo non civilizzate della terra che vengono utilizzate come modelli e in quei casi tu ti rendi conto che i ragionamenti che fanno sono molto simili ai nostri e a volte addirittura sono molto più profondi tanto che una delle grandi rivoluzioni che abbiamo avuto nel 1800 in Europa è stata proprio quando abbiamo avuto a che fare con popolazioni indigene che non avevano niente del costrutto sociale che per noi era normale noi li chiamavamo capito selvaggi quando per loro noi eravamo i selvaggi e i filosofi europei si sono iniziati a porre delle domande riguardo all'intera società che per noi era scontata è certo è ovvio e questo ti apre l'orizzonte è come immaginare una popolazione del passato come una popolazione ignorante non era ignorante nel senso sì sicuramente aveva meno mezzi per capire però era molto intelligente certo era diversa perché aveva sviluppato un altro tipo di intelligenza aveva sviluppato no aveva dovuto adattarsi adattamento ricorrere a volte a dei a degli strumenti di immaginazione o di apprendimento diversi da quelli attuali però voglio dire la popolazione a livello di intelletto è un po' cambiata anche qua c'è un bel dibattito però tu te la devi immaginare costante cioè la tua capacità cerebrale di immaginare il mondo è la stessa di quella che c'era mille anni fa probabilmente sì però per esempio un'altra cosa che che a me interessa forse è esagerato perché non ce l'ha mai cioè diciamo però non è affatto 100 mila anni fa dai per esempio una cosa che a me interessa tantissimo il concetto è che gli strumenti che tu usi per comunicare con la società hanno un effetto sul tuo cervello e cambiano come sul tuo cervello si forma è un dibattito che per esempio c'è ai giorni nostri con i social network c'è gli studi che studiano come vent'anni di social network di interazione con il resto della specie umana attraverso questo strumento ha modificato alcuni percorsi cerebrali e quindi questa è una cosa che è sempre avvenuta per cui come dici tu in certe società dove l'adattamento territoriale sociale ha comportato delle cose ha portato a un tipo di formazione culturale ma intendo proprio anche proprio formazione dei percorsi neuronali di un certo tipo dove invece c'è stato il bivio che ha portato da un'altra parte ha portato ad altri tipi di società e era quello che intendo dire prima come botta di culo cioè non c'è un criterio poi se uno ha una visione in cui deve dire che questa cosa ci deve avere senso perché non riesce ad accettare il fatto che non ci abbia senso questo è il passaggio principale è il discorso però secondo me siamo su due piani diversi un discorso è come si evolve un meccanismo che già esiste per botte di culo per adattamento per sopravvivenza fondamentalmente a un certo punto un altro è perché per quel che sappiamo oggi un principio primo come il big bang quindi l'unico episodio da cui scaturisce tutto in cui i numeri potevano essere letteralmente quasi una gamma infinita di variabili sono caduti esattamente ad avere il valore tale per cui noi oggi siamo in grado di esistere e parlarne questo non è così ovvio beh però il fatto che magari è casuale perché magari sono infiniti magari sono solo allora non mi comincia però il fatto che noi lo possiamo osservare ne possiamo parlare è comunque un fattore che noi stessi da soli abbiamo deciso che c'ha un valore assolutamente infatti il principio di fondo di questo discorso è quello chi se ne frega ah perché proprio noi le possiamo parlare e osservarlo ma chi se ne frega cioè è bello è divertente ma non è che c'ha senso ma dipende a cosa dà senso tu a cosa dà senso nella vita per esempio alla marula allora semplifichiamo questo a livello ma perché io devo dare io perché devo dare un senso a qualcosa nella vita ma questa è una bella domanda allora io qua mi fermerei nel senso che francamente se io dovessi comunque iniziere a parlare di questa roba qua non riusciamo a più in questo modo sono settimane quindi alla fine io vorrei più che altro che mi scriviate voi nei commenti cosa ne pensate del principio antropico in generale di questa questione ovviamente se lo chiedeste a me l'ottica creazionista non ha senso e non c'è una una visione nemmeno non ha proprio senso guardarla con modo finalistico tutto ciò esatto perché poi il concetto del principio antropico è quello è comunque doverci porre al centro dell'esistenza e sappiamo che non siamo manco al centro dell'universo ma manco lontanamente siamo usciti per caso e comunque se non si fossero estinti dinosauri noi non si sono estinti ci tengo a ricordare che gli uccelli sono dinosauri non si sono estinti però se non ci fosse stato questo famoso asteroide esatto asteroide che se no ti ammazzano vero asteroide chi ha detto meteoride comunque a proposito ti voglio fare un'altra domanda che non c'entra niente così cambiamo argomento la formazione stellare massiva ti voglio chiedere ho letto della questione della possibilità di ascoltare i suoni dell'universo vero perché allora parliamone ma sarà ignorante scusate ti ho detto quella cosa prima che non serve a niente ti sei offeso beh un po' ci sono rimasto male io non accetto che ti dica che non serve a niente onestamente è il principio allora ridere a che serve forza hai ragione a niente siamo pari il nostro lavoro entrambi sarò proprio fatto appare ma distrutto allora il bello perché molta gente quando pensa all'universo pensa a uno spazio completamente vuoto no perché adesso stiamo andando all'universo e molti versi restiamo nel nostro universo questo spazio infinitamente vuoto intanto infinitamente sbagliata la definizione ma va bene diciamo spazio vuoto molto grande mediamente è vero nel senso in media lo spazio tende ad essere molto poco popolato non vuoto poi hai dei cluster diciamo delle regioni di formazione invece piuttosto dense all'interno di queste regioni di formazione se vogliamo le possiamo chiamare per esempio gruppi di galassie al loro interno le galassie tipo la via lattea tipo la nostra con decine o centinaia di altre e così via che al loro interno hanno del gas questo gas interagisce con tutto ciò che gli succede intorno se una stella è molto attiva per esempio e sta una protostella è molto attiva sta in fase di formazione emette dei getti durante la sua formazione sono chiamati outflow questi getti interagiscono con il gas interstellare intorno alla stella interagendo genera una pressione del gas sul gas delle vibrazioni che a questo punto da noi possono essere registrate con strumenti a terra e quindi in qualche modo gli possiamo definire una frequenza associata a quel tipo di interazione ok quindi noi facciamo la traduzione della frequenza che percepiamo in suono perché alla fine i suoni sono frequenze esatto i suoni non sono altro essenzialmente vibrazioni di passaggio attraverso un mezzo in questo caso il gas interstellare questo ovviamente vale a qualunque tipo di livello di interazione tra un oggetto che emette una vibrazione e un gas nel suo intorno per esempio sappiamo che dei buchi neri hanno al loro intorno tutto un gas che sta lentamente collassando sul buco nero quindi se il buco nero in qualche modo emette delle vibrazioni queste vanno a far vibrare il mezzo interstellare intorno al buco nero che noi possiamo registrare e se vogliamo convertire in qualche modo associandogli l'equivalente di frequenza in grado di essere ascoltato al nostro orecchio francamente l'album lo comprerei vero scusa adesso sempre per rimanere nella mia posizione a che serve ascoltare questi suoni a nulla però è bellissimo lo vedi lo vedi è una a due una a uno pallarci questo condivido serve veramente a poco qui non c'è niente qui stiamo parlando di arte chi paga questi microfoni grossi chi li paga c'è questi costano un botto esatto e questi sono quelli con cui ascoltiamo le stelle se costassero così le avremmo svoltate ma è più costosa la storia ok però noi li ascoltiamo un paio di milioni li ho pagati a microfono guarda che qua insomma allora saperlo è un telescopietto per me non a meno un paio di milioni in telescopietto guarda un po' il caso io ho mandato Jacopo a ascoltare dei suoni nello spazio con un microfone bello grande a puntarlo così in giro aspetta vediamo se Jacopo si dove sei Barba ehi mi sentite si forte e chiaro oh ciao ciao Barba ciao Alessio ciao ciao Daniele ciao Daniele mi sentite ciao scusa si stavo un attimo a pensare un verso la scuola quantica me ne trovo no è che c'è una ferita da qua perché sono sono dove mi hai detto tu Barba sono nello spazio ma è giusto bravo bravo e restaci ah ok come va là tutto a posto hai portato il microfonone si si ho portato ho registrato un paio di cose volevo farle ascoltare però volevo dire una cosa a Daniele prima si anche io ogni tanto mi fanno sentire come uno stupido perché mi spiegano le cose come 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 Dragon Ball e queste cose quindi volevo dirti ti capisco siamo grazie sulla stessa barca grazie mi serviva guarda come i fagioli di Balzara esatto oh no ti ha fatto una citazione su Dragon Ball è finita non sono così solo no volevo dirvi volevo farvi ascoltare questo che è un ammasso stellare che si chiama Pismis 24 ah ma questo è Pismis 24 ma è proprio lo vado a dissu beh si si riconosciamo il tipo lo sound Pismis 24 comunque è un ammasso stellare quindi prima cioè prima non ne ho raccolato poi c'è ancora che è successo? che succede? beh si sente? si si forte e chiaro? bellissimo adesso per variare invece volevo farvi sentire un'altra cosa un po' più un po' più pesante vi dico dopo cos'è ok guardo che è ah però può sapere questo è profondo rosso questo è uno new indigestione non so cosa sia ma è cattivissimo indovinate che che tipo di corpo celeste che cos'è un buco nero esatto è incazzato è incazzato il buco nero giustamente guarda quanto è incazzato quindi questo è il gas che interagisce col buco nero ma che bello bello è proprio come lo immaginavo mi fa molto rire gas e buco nero lo so è dall'inizio che sto cercando di trattenerlo no però volevo dire un'altra cosa se posso ma scherzi volevo dire semplicemente che quello che è stato detto prima sul fatto che non serve proprio a nulla in realtà non è che non serva proprio proprio a nulla un'utilità c'è addirittura eh sì beh comunque pensate che c'è tutta una parte di popolazione che non vede far a un cieco dare l'opportunità di poter fare l'esperienza di una nebulosa o di un buco nero beh secondo me già quello è tanta roba no mazza poesia 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 mi piace? mi è piaciuta questa? bello applausi bravo bravo bello non sono abituato agli applausi per favore non pensavo che non li sentissi ma come fai a sentirli nello spazio perché ma se noi sentiamo lui però comunque comunque volevo dirvi un'altra cosa questa cosa appunto dell'utilità è fondamentale perché esprime una cosa di noi esseri umani molto importante il fatto che noi utilizziamo un senso che è quello dell'udito che noi sottovalutiamo tantissimo in realtà l'udito negli esseri umani è super raffinato è raffinatissimo diciamo che magari la l'aquila ha la vista migliore il cane l'olfatto migliore invece non ci dobbiamo abbattere anche noi abbiamo dei sensi raffinatissimi guarda taglio corto vi dico semplicemente questa cosa all'interno del nostro orecchio abbiamo una struttura iper raffinata che si chiama coclea all'interno della coclea ci sono due due elementi ce ne sono tantissimi chiaramente ma ce ne sono due in particolare che sono estremamente ecco raffinati nella loro costruzione evolutiva se vogliamo chiamarla così uno viene chiamato viene chiamato mo ve lo dico perché negli appunti nello spazio comunque ti posso dire che effettivamente è raffinato il nostro udito riusciamo a sentire le voci nello spazio esatto comunque ma perché si è evoluto l'udito dell'uomo per poter anche captare le voci di persone molto lontane ma perché semplicemente dopo milioni di anni di evoluzione chiaramente l'unica cosa che dovevamo sentire che ci interessava erano le voci degli altri uomini ma stavo dicendo appunto per tornare all'orecchio dentro la coclea c'è l'organo del corti che è un organo insomma una parte della coclea con tantissime cellule sensoriali che permettono di diciamo trasmettere le vibrazioni che sentono dall'esterno in maniera differenziale pensate la coclea è a forma di spirale a forma di questa piccola chiocciola è un tubo cavo che si ristringe sempre di più fino ad arrivare alla fine e a seconda dove sono posizionate queste cellule beh un po' come la corda di una chitarra per esempio vibra in maniera diversa a seconda di quanto si va in fondo a questa spirale e sente frequenze diverse frequenze più basse se stiamo alla fine della spirale o frequenze più alte se siamo all'inizio della spirale tutto questo è merito di un'altra parte della coclea che si chiama membrana basilare ah ma era basilare era basilare basilare era sottinteso basilare era sottinteso e mica così tanto mi sa è basilare è basilare sono termini difficili ma non serve dirlo è basilare spero di avervi li detti correttamente insomma tutto questo per dirvi che millenni di evoluzione hanno portato poi a farci ascoltare meglio quello che può dire una persona perché ripeto è quello che siamo ci siamo voluti a fare ascoltare quello che ci interessa sicuramente e io sono una persona gli ammassi interstellari e buchi neri ecco se potessimo ascoltare il suono di un buco nero tutto il giorno probabilmente ci ci verrebbe una depressione va bene grazie Jacopo rimani là mi raccomando cattura tutti tutti i suoni che trovi che fra un mese come fra un mese ma un mese nello spazio come faccio ma non ti preoccupare si riciclano un po' i liquidi c'hai un sacco di tempo per raccogliere i suoni fai una playlist in un mese è molto freddo ti conservi bene su spotify anzi su spotify spacchiamo e niente e anche questa l'ha fatta comunque io volevo dire una cosa prima perché nel senso il discorso sul fatto a che serve quello a che serve quello forse non ci siamo capiti perché per esempio questa cosa dei suoni dello spazio è bellissima questa veramente non serve a niente però il senso delle cose non è l'utilità secondo me è la bellezza se l'esperienza di una cosa è bella non è che ci deve avere senso è bella fine per quello secondo me non serve chiedersi delle cose se ci hanno senso o meno serve chiedersi è bella l'esperienza di questa cosa sì e allora famos vabbè però è bello il big bang che non so il big bang è bello basta non l'abbiamo visto però nel senso cioè quello che voglio dire è che il senso dell'esplorare le cose è l'esplorazione stessa sì sì ma qua aspetta qui stiamo parlando di cose diverse perché una cosa è l'arte o la bellezza delle cose tipo la bellezza del suono di un buco nero che quella è pura arte o traduzione del linguaggio naturale in arte ci sono delle fotografie tipo naturalistiche stupende fatte al microscopio che io mi vorrei appendere in casa che per me è arte e non ha uno scopo quelle se vai di studi e c'è una fotografia al microscopio potrebbe servirte a molto però la fotografia di un buco nero che può essere molto bella non è solo arte perché quello te lo fa studiare il buco nero ti fa capire come funziona sì sì ma io mi ho detto non stavo facendo un discorso da arte e non arte stavo ritornando al discorso che non è che uno si deve chiedere se una cosa serve a qualche cosa perché ci deve avere un'utilità certo è proprio però esplorare la realtà e le varie possibili realtà esatto semplicemente estende le possibilità di avere cose di cui poi fare esperienze belle certo certo su questo ragione questo siamo d'accordo ma quanto cazzo è figa la frase che ho appena detto e voi mi dice solo mi raccomando scrivetegli sulla lapide quando succederà no sulla mia lapide c'è scritto che vi guardate l'ho già preparata l'ho già preparata bravo bello bello no comunque davvero tutta sta roba a me fa intrippare da morire perché in fin dei conti vabbè a parte il discorso un universo non osservabile davvero esiste davvero che è un discorso ovviamente stupido ma puramente filosofico certo che può essere posto nel momento in cui ti poni delle questioni finalistiche creazionistiche quindi tu dici ma quell'universo a che serve se non è abitato da nessuno esatto il cazzo esatto non ruota intorno a noi non è così e funziona però a me fa intrippare perché poi insomma ovviamente la fantasia viaggia mi fa pensare ma se noi potessimo effettivamente andare in quell'universo cosa succederebbe a parte come potremmo fare io però immagino come un wormhole per l'appunto molto lungo come una sorta di cunicolo che arriva in quell'altro universo quindi tu lo attraversi e però il problema è che comunque anche se c'è un wormhole quindi io mi immagino una sfera che è il nostro universo una sfera a fianco che è un altro universo in questo spazio sto cercando di visualizzarla in modo molto semplice così è facile da vedere due palle e immaginiamolo bravo grazie e immaginiamo un piccolo cunicolo e il wormhole sarebbe il nervo è un piccolo che è solo volgare quindi andiamo il wormhole è un piccolo nervo che li collega molto piccolo immaginatelo come un lungo cunicolo un ponticello tra i due universi comunque non cioè la veloci non potrei comunque viaggiare più velocemente della luce ma guarda a questo punto e nella tua immagine quindi comunque diciamo che per attraversare questo iperspazio arrivando in un altro universo comunque difficilmente potresti farcela anche se esistesse un wormhole stabile che ti permettesse di attraversarlo perché ovviamente ti richiederebbe boh quanti miliardi se triliardi di anni per farlo supponendo che però tu arrivi in quell'altro universo uno come esci? cosa c'è dall'altra parte nell'uscita di un wormhole c'è una sorta di buco nero al contrario quello che chiamano buco biancato tu devi fare questa domanda perché sei preoccupato che non sai dove andare a mangiare e così io la butto là perché vai arrivi e vedi no ma soprattutto nel momento in cui io riuscissi ad arrivare in questo universo e l'universo avesse delle leggi fisiche completamente diverse dalle mie io mi smembro completamente immediatamente perché smembrarsi non è l'unica possibilità che ti smembri potrebbero succedere un sacco di altre cose sì perché potrebbero proprio non esistere gli atomi come li pensiamo noi qua quindi le mie particelle subatomiche si disperderebbero completamente poi diventerebbero un'energia poi diventerebbero magari forza e diventeresti tu un big bang che ne sai magari ne do così il big bang uno che ha sbagliato un ultiverso scusate raga ho sbagliato uno che ha sbagliato un ultiverso dovevo girare a Roma ma vabbè e niente però sì questa cosa mi fa sbarellare però parlare di queste cose è bello perché perché come hai detto tu poi fantastici con la mente e fantasticare con la mente è un'esperienza figa è un'esperienza figa vedi che serve io passo un sacco di serate fantasticando così dicendo wow che figata e basta ma infatti è quello che sto a dire è bello poi chiederti ah se invece c'è un osservatore quando esce con barba scura è bellissimo se tu resti saltavo in silenzio a un certo punto ah che figata poi ti è mezz'ora è davvero quello che succede è bellissima e poi devo spiegare agli altri che cosa stavo pensando e vabbè va così no ma comunque sta cosa mi fa intrippare poi mi fa intrippare anche il discorso proprio stesso dello spazio-tempo perché se tu immagini di poter piegare lo spazio-tempo come vuoi e quindi poter creare delle cose come Wormall e quindi poter andare in regioni molto remote dell'universo conosciuto per poter non lo so che è uno dei Wormall che è stato teorizzato in realtà c'è questa teoria del Wormall di Kip Thorne il suo studente Morris dei fini anni Ottanta in cui diceva che proprio risolvendo l'equazione di campo di Einstein lui riusciva a giustificare introducendo quella che si chiama materia esotica quindi insomma senza andare ai dettagli però diciamo riesce a dimostrare che c'è possibilità che esista un Wormall che puoi entrare ed uscire dallo stesso Wormall che ti permette in linea teorica anche di viaggiare nel tempo e non solo nello spazio però quello che dici tu è quello stabilizzato con la materia esotica esatto che è l'unico che conosciamo oggi a livello teorico ti spiego la materia esotica mi ha intrigato sono anche un po' aroused comunque a livello di equazioni il problema del buco nero o meglio del Wormall è che non è stabile cioè se tu lo crei si chiuderebbe prima che tu potessi attraversarlo non è stabile non è stabile quindi un modo per stabilizzarlo come è stato teorizzato è quello di avere delle particelle che però hanno massa negativa antiparticelle però come le antiparticelle che generalmente si immagina più o meno o meno o più immaginati della materia che ha una massa in negativo immagino ok mi è venuto in mente il mio cognato non so perché ma andiamo avanti è molto le vabbè non fa niente e di conseguenza se tu metti un Wormall si genera in teoria come un buco nero in teoria cioè supponendo quindi hai una è un'estensione del buco nero diciamo in qualche modo cioè tu formi un buco nero che in alcuni casi può crearti questo tunnel e se diventa un imbudo talmente tanto lungo che se poco poco becca un altro buco nero dall'altra parte vabbè lo genererebbe lui stesso ti genera un buco bianco cioè quello in cui esci oppure un altro buco nero in cui puoi entra e uscire insomma perché poi il discorso è una figata capito perché il Wormall se si genera come un buco nero hai una massa super densa quindi un corpo super massivo che ti buca lo spazio tempo poi cioè generalmente nei cartoni animativi viene rappresentato come un portale mi è piaciuto un sacco la rappresentazione di Interstellar è stato il primo prodotto penso nella storia in cui veniva rappresentato un Wormall o il buco nero di conseguenza proprio sferico perché in quattro dimensioni deve essere sferico non può essere piatto è ovvio che sia sferico però io ho barellato perché ho detto è la prima volta infatti la simulazione ha fatto un premio Nobel Kip Thorne quelli di cui parlavamo prima insomma ci studia quindi tu attraversi questo portale che in realtà ripeto è una sfera che si è generata con un oggetto super denso super massivo però di conseguenza devi avere qualcosa che lo stabilizza qualcosa che bilancia questa massa e quindi una massa negativa hanno ipotizzato loro facendo i calcoletti ho visto in questo modo lo stabilizziamo però e i calcoletti sulla carta anche perché nessuno non sappiamo se esiste questa antimateria della insomma questa antimassa però è una figata perché se tu ipotizzi che questa cosa sia fattibile veramente ipotizzi un sacco di altri scenari ipotizzi anche la possibilità di viaggiare nel tempo ipotizzi la possibilità cioè poi devi immaginare anche come funziona l'uscita perché anche questa a me mi fa sbarellare immagina c'hai un buco nero in cui entri ho detto sbarellare più e più volte a lui non piace che gli dica sbarellare è il mio periodo di sbarellare in questo periodo di un sacco sbarellare non puoi sbarellare puoi sputare in questo podcast quindi questa cosa mi fa sputare mi fa un sacco sputare che ha un modo strano per descrivere un'eccitazione però comunque allora praticamente tu hai un buco nero il buco nero come sai ha un quello che viene chiamato orizzonte degli eventi se tu superi quell'orizzonte quel confine nulla potrà mai più uscire da da quel punto cioè neanche la luce talmente denso che lo spaziampo si curva al punto tale che neanche la luce può uscirne quindi l'orizzonte degli eventi è il punto in cui un secondo prima puoi ancora allontanarti un secondo dopo basta puoi soltanto rientrare il buco nero non c'è la possibilità di fuggire ok se tu te lo immagini così però l'ingresso di un wormhole dall'altra parte se c'è un altro buco nero come fai a uscire certo non esci secondo questo principio e quindi è stato ipotizzato il buco bianco perché hanno terrorizzato il buco bianco che fa il contrario cioè tu puoi solo uscire al di fuori il buco bianco non potrai mai entrare però quindi come fai a esserci dentro se puoi solo uscire eh ma il punto è questo che infatti è one way questo tipo di wormhole ora questo ci sono un sacco di modelli di wormhole tantissimi ora stiamo parlando di uno soltanto ci tengo a previsarlo perché altrimenti sembra che esiste che non sappiamo che qualcuno si confonde le idee che magari poi però se usi la materia esotica puoi fare ingresso e uscita però ecco il buco bianco io me lo immagino così no che cos'è il buco bianco è un buco nero in cui che ci ha ripensato che è stato sbiancato intanto perché qua noi siamo il Michael Jackson dei buco nero perché noi siamo per l'inclusione quindi se abbiamo il buco nero abbiamo lo creato il buco bianco perché giusto sia così il buco bianco è un buco nero in cui il tempo scorre al contrario e se lo immagini in questo modo tutto torna cioè se tu capiti in una regione dello spazio in cui in quella regione o in quel intorno a quell'elemento celeste e tutto quanto scorre la dimensione del tempo scorre al contrario è lì torna è un buco nero normalissimo soltanto che tanto che tu vedi il tempo scorre al contrario tutto esce e niente entra però sta cosa mi fa sbarellare ti fa sputare dicevi ti fa sputare ormai è uscito ok però stiamo ancora nella stiamo sempre nel campo della scienza di confine per dargli dignità ci sono tanti altri modelli di wormhole questo è uno dei tanti ti ripeto però non è quello nemmeno più plausibile ce ne sono altri però vi faccio una domanda ma così è soltanto perché è tanto amici siccome io penso che allora diciamo arriviamo a un certo punto in cui questa cosa che per ora è soltanto teorica sta in osservazione solo sulla carta a un certo punto si riesce non soltanto a dimostrarla non soltanto a osservarla a gestirla cioè quindi riesci davvero a creare i wormhole e tutto quanto qui diventano fondamentalmente delle applicazioni tecniche che poi cioè attraverso una tecnologia inventata ad hoc immagina quanto cambierebbe drasticamente la tua vita la mia domanda infatti è proprio questa siccome io sono convinto che fondamentalmente noi esseri umani allo stato attuale quindi ragioniamo solo sullo stato attuale siamo comunque delle persone molto molto semplici per cui anche le cose più fighe che scopriamo in campo scientifico tecnologico poi le usiamo per cioè se noi mediamente mediamente sì ma non perché siamo scemi perché semplicemente troviamo le applicazioni commerciali cioè se noi trovassimo il modo di cioè nella mia testa penso sempre che se noi trovassimo il modo di prevedere il futuro la maggior parte delle agenti lo userebbe per vedere se domani piove così stendo i bagni no no Daniele il problema è che tu ad esempio non sai quali sono state le implicazioni dell'esplorazione spaziale nella vita di tutti i giorni ti faccio un esempio che erano delle cose che uno diceva ma che cazzo serve sta roba e poi ti ha fatto una rivoluzione per cui il tuo no ma ti faccio un esempio è il costume da bagno la pentola di teflon il cellulare il gps e il gps funziona con le equazioni di Einstein una roba che tu dici ma che cazzo dici no ma infatti io non volevo però appunto capito Einstein che faceva delle equazioni per studiare l'intero universo a un certo punto noi l'abbiamo tradotto in una cosa che usiamo per non perderci anche una cosa però lo pensare ma io sto dicendo cioè quell'applicazione quel tipo di studi lì che adesso ci sembrano delle cose veramente che stai esplorando in molti versi poi magari nella nostra vita quotidiana si traducono appunto in queste stupidaggine così che non è che sono stupidaggine sono applicazioni pratiche no ma ci saranno delle applicazioni stupide e poi le applicazioni incredibili la mia domanda infatti era che non volevo scusami che non ero scettico su questa cosa era però mi stavo chiedendo secondo voi così per fantasticare il giorno che si riesce a creare veramente un wormhole che ti permette di spostarti da una parte all'altra dell'universo noi che ci facciamo cioè quale potrebbe essere delle cose quotidiane tutti i giorni però in questo senso non ti allontanai anche dall'universo metti adesso per un attacco di cuore e l'unico che ti può salvare è un dottore in Giappone io direi mi fai scusa mi apri un buco nero al volo all'ospedale di Tokyo oh che figata il viaggio nel tempo o meglio scusami il teletrasporto il viaggio nel tempo lo userei per andare nel punto in cui ancora non ci avevo avuto l'attacco di cuore e guardarti mentre hai l'attacco di cuore esatto ma donna e toccarmi e farmi oh è vivo dunque pensa a come diventerebbe l'esplorazione spaziale se tu potessi in qualsiasi momento andare su un altro pianeta abitabile Pasquetta noi potremmo tranquillamente dire vado a trovare zia che sta su Ganymede oppure come diventerebbe facile proprio avere a disposizione l'intero universo proprio l'intero universo tu potresti andare veramente in una regione inimmaginabilmente lontana dell'universo che ha le stesse identiche condizioni della terra e popolarlo pensa a barconi che arrivano da Andromeda no non arrivano manco i barconi perché usano il teletrasporto col uomo esatto ti ritrovi subito in porto ti ritrovi in casa che stanno mangiando le tue patatine sul tuo divano plutone porto non sicuro sarebbe illegale secondo me diventerebbe buono ma non lo so come lo puoi controllare ti dirò cioè la tecnologia per crearlo sarebbe illegale però una volta che ce l'hai come fai a bloccarlo stai piegando lo spazio tempo non è che ti chiedo ho il permesso di atterrare potrebbe smettere di piegare lo spazio tempo per cortesia siamo la polizia no ho iniziato e voglio finire ah bello potresti respingere la polizia creando tipo qualcosa davanti a te che loro ti vengono a prendere entrano dentro questo portale e si ritrovano dove stavamo prima non si fanno a prescindere che un po' con crearlo da te per scappare da un'altra servia illegale io non riesco a capire ma come fai a essere l'asse sequo è vero va bene facciamo entrare dai vieni Davide stiamo per chiudere grazie Davide grande oh grande piacere che volevo dire c'era una domanda che stavo per fare ma mi sono scoperto oh io dato che siete tutti in tre là io sono da solo mi avvicino lui almeno mi accompagnia che vergogna guarda c'è il cuore ce l'aveva ce l'aveva poggiato qua come giusto che sia una vescica cardiaca e vabbè in un universo parallelo il cuore riesce là eh sì anche in questo universo se vai in discoteca voglio io credo che abbiamo fatto detto un sacco di cose in realtà io la vivo un po' come se non abbiamo detto niente perché io avrei passato tipo una settimana parlando di stagione ah io pure non vedo l'ora quando vuoi tanto adesso continuiamo adesso spegno le videocamere tu dove cherzi di andare no comunque no scherzi a parte io sta roba mi fa troppo intrippare ci sono un sacco di risvolti poi essendo molto appassionato di fantascienza questa roba ti apre la infinite possibilità anche dal punto di vista dei film di narrativi ti dà veramente una volta che le conosci bene le puoi utilizzare piegare al tuo volere ti dà la possibilità di creare qualsiasi voglia tu voglia qualsiasi voglia tu voglia e vabbè detto questo è stato molto bello spero che qualcuno di voi non sia rimasto troppo confuso dal discorso tu sei stato confuso insomma con i stori lui ha una crisi di identità e quindi ci siamo detto questo grazie mille da parte di tutti noi e ci sputiamo alla prossima ciao ciao ciao